Benvenuti a tutti i nostri lettori e ascoltatori. Oggi ci connetteremo per presentare Milan Genoa con un gradito ospite che ha militato dal 2006 al 2008 con la maglia del Genoa, collezionando 43 presenze fra Serie A e Serie B. Parliamo di Francesco Belga che da vicino ha visto e vissuto questi ultimi 2-3 anni di Milan e la crescita che poi ha portato la squadra rossonera ad essere attualmente seconda in classifica. La prima domanda è come stai? Cosa fa oggi Francesco Belga dopo la vita? Faccio lavorativamente parlando, faccio sempre lo scout però lo faccio per conto mio, non lavoro per una società sola quindi mi sono aperto io diciamo un'agenzia e faccio dello scout e cerco giovani che mi piacciono sempre giovani da portare nella società ecco e poi il resto faccio il papà a tempo pieno e tutto il resto è quello che deve fare, uno della mia età. No senti sappiamo che insomma negli ultimi anni proprio per il lavoro che ci descrivevi insomma che fai adesso hai anche seguito da vicino come per tante altre squadre anche le vicende un po' del Milan, squadra che in questi anni insomma ha messo mattoncino dopo mattoncino e è arrivata adesso ad essere seconda in classifica e per la larghissima parte del campionato è stata invece in testa. Si dà il caso che insomma ci sia appunto Milan Genua domenica all'ora di pranzo, io ti chiedo che Milan si troverà davanti in Genua e soprattutto che partita ti aspetti? Beh sarà una partita una bella partita penso perché io sto guardando comunque sempre come sempre guardo il Genua perché anche se l'ho vestita 43 volte diciamo che quando ti sudi la maglietta del Genua perché io l'ho sempre sudata ti rimane attaccata poi ho lavorato anche nel settore giovanile con Michele e quindi sono molto legato al colore rosso-blu e mentre in Milan ho lavorato un anno poi il secondo anno sono arrivati i cinesi e da lì in poi ho deciso di prendere la mia strada perché sì, ho deciso di prendere la mia strada. La partita c'è il Milan comunque ha dimostrato tutto l'anno che dimostra di essere una squadra comunque molto ostica, gioca un bel calcio, gioca in maniera molto spensierata senza grosse pressioni e ha giocatori di grande qualità. Il Genua da quando ha preso Ballardini è un'altra squadra e quindi va a merito a lui la squadra c'era già prima, sono più o meno gli stessi giocatori e si vede gattilato fuori per l'ennesima volta in meglio da questi giocatori quindi la vedo una squadra molto messa bene in campo sempre che comunque non si arrende mai anche se prende le gol per esempio l'ho vista a Torino e comunque ha avuto anche palle per fare il 2 a 2 e mettere in discussione tutto e quindi lo vedo bene. Un'ultima domanda e ti ringraziamo nuovamente, è coinvolto quest'anno io penso di poter dire abbastanza sorpresa nonostante il finale opaco nella scorsa stagione nella lotta salvezza al Cagliari di cui tu sei stato insomma Mi dispiace molto. Ti volevo chiedere come si spiega e come vedi la lotta salvezza di quest'anno? Forse non è mai stata così aperta. No, io sinceramente mi dispiace molto per il Cagliari anche perché avrei pensato tutto tranne che dovesse lottare così con i denti veramente stretti per raggiungere la salvezza perché comunque ha dei giocatori di grandissimo valore quindi penso che sia uno dei centrocampi più più belli della Serie A tra virgolette poi dopo non essendo lì non so cosa cosa qual è il problema reale però vedi è ancora aperta è ancora aperta secondo me io spero che il Cagliari si riesca a salvare onestamente con tutto il cuore veramente perché mi dispiacerebbe e quindi è ancora aperta anche se lo Spezia comunque vince spesso vince spesso gioca un buon calcio gioca sempre il suo calcio gioca da qualsiasi parte con le sue idee non sta mai chiuso e riparte in contropiede quindi sarà difficile io spero che si salvi con tutto il cuore grazie Francesco io ti lascio con la possibilità di fare un saluto ai tifosi del Genoa se ti fa piacere per me sempre forza Genoa e il Grifone come dicevo prima non lo dico perché non sono mai stato uno ruffiano uno che va sotto la curva non sono mai stato uno di questi però ti ripeto che quando indossi i colori del Genoa e dai massimo comunque fai bene ti studi sempre la maglietta e il pubblico del Genoa penso che in Serie A non ce n'abbia nessuno sinceramente lo dico con tutto il cuore grazie